Vuoi che sia sincero? O chi c'è? Sincero o ti dica che ho già sgamato lo specchio? Ma fai schifo per me! E come l'hai sgamato? E' una delle poche cose che avevo visto nell'Isola dei Famosi Ah, allora la seguivi l'isola! Allora Marco! Ah, prima di entrare ho detto... Dopo 61 giorni che non ti vedi allo specchio, so che sei molto fanatico Ci tieni molto al tuo aspetto fisico e hai l'opportunità di vedere come sei adesso dopo 61 giorni Mamma che reazione adesso! Sei pronto? Sei pronto? Vai! Attenzione! 3, 2, 1... Madonna, Beppe Vessicchio! Posso andare? Vai! Mamma! Cosa ti aspettavi di vedere che non hai visto? Vecchio! Sono invecchiato di 50 anni! Madonna! Ma mia moglie mi vorrà ancora così, Ilari? Ah! 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 Ciao! Ciao! Grazie a tutti